La mattina ci svegliamo così, con un leggero arzugaggio. Arzughe? Che arzughe? La figa. Oh, beh, giustamente c'è rimasta solo di arzugalla. Guardalo, guardalo come arzuga. Eccola. Oh, stiamo al maricello, eh. Oh, stiamo al maricello. Eccolo, stacca deli coglione, eh. Mangi quando lo stai a maria, ma non lo fai, signore. Perché io ce la metto in giro. Ciao. Ma chi è? Ciao, Carletto. Sono un orzetto seghino. Vorrei vedere nonno Faustino. Posso? Eh, va bene, dai. Te lo faccio vedere, su. Guarda, adesso sta mangiando, però mi raccomando. Fai per bene, perché sennò si arrabbia. Perché sta arzugando ancora. Ciao, Faustino. Sono un orzetto seghino. Ciao. Come stai? Tutto bene? No, non ti costo subito. È l'orzetto seghino. Mannaggia, è il crocci di trada. È l'orzetto seghino. Ti, 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 ti. Eccolo l'orzetto seghino. È tanto bellissimo, vuol bene, ti viene salutato. E mette il verdino? Vuol da me? eh ciao no Faustino sono l'orzetto è l'orzetto è l'orzetto fai un versetto ma fai un versetto ma fai un versetto ma come che sa il mondo intero a la mia misericordia a la mia misericordia il mondo intero e me las prendo? no, e las prendo? e las prendo? a far da luce sia di noi e del mondo intero e come è un pezzo a la mia misericordia sia di noi e del mondo intero ma scemo su queste piante e questo eh? e che strui 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 strui